La scheda XIAO di Sistudio può produrre un segnale analogico, quindi ha un pin, il pin 0, in cui possiamo uscire in modo analogico e generare un segnale tra 0 e 3 volt. Vediamo come fare. La XIAO è dotata di un pin che può generare un segnale analogico, quindi è molto piccola ma, diciamo, completa da questo punto di vista. Uno dei pin della XIAO può generare un segnale analogico, questo pin è il pin 0 e ora andremo a verificare la funzionalità andando a generare un'onda sinusoidale. Per poterla vedere andremo a collegare un piccolo oscilloscopio, in modo che ci possa visualizzare il segnale prodotto, quindi avremo una sonda dell'oscilloscopio che punta sul pin 0 e il colletto della sonda lo mettiamo collegato al ground della nostra scheda. Non ho verificato la frequenza, la velocità che può avere questa generazione, lascio a voi l'esperimento, sapendo che comunque abbiamo a disposizione un chip che va a 48 MHz, quindi dovremmo riuscire ad avere dei segnali decenti, quindi almeno nella gamma audio non dovremmo avere problemi. Quindi può essere interessante per generare dei suoni, quindi magari fare delle creazioni in ambito anche musicale. Il numero di bit del nostro DAC è pari a 10, quindi possiamo generare un valore numerico che va da 0 a 1023. Questo va impostato, adesso vedremo come fare. E il valore di tensione varia tra 0 e 3,3 volt. Partiamo sempre da uno sketch vuoto, verificate sotto tool o strumenti di aver impostato la scheda C2 INO XIAO e che sia collegata e visibile alla porta USB. Lo prendiamo alla porta seriale con serial.begin9006. Poi per usare il pin, mi raccomando è solo il pin 0, dobbiamo impostare la risoluzione. Usiamo analog write, questa volta, risolution. E la impostiamo a 10, in modo che usiamo 10 bit. Ora, dobbiamo generare un angolo. Allora, che cosa useremo? Useremo per comandare il pin analog write di 0 e poi gli passeremo il valore desiderato. Quindi avremo una variabile vali in cui metteremo dentro un numero tra 0 e 1023. Magari mettiamo un piccolo delay, per non generare una forma d'onda troppo veloce, in modo da poterla vedere sul nostro piccolo strumentino. Per generare una forma d'onda sinusoidale, useremo la funzione sin di Arduino. Quindi è la funzione già pronta. Questa si prende un valore, un angolo R. Questo R è un angolo in radianti. Creo la variabile qui, metto uguale a 0.0. Questo angolo in radianti è un angolo che equivale ai più classici sessagesimali da 0 a 360, solo che in radianti, quindi è la stessa cosa, solo che va da 0 a 2π, quindi un valore un po' particolare. Viene comodo per fare dei conti in matematica. Creiamoci allora una variabile A che usiamo come angolo vero e proprio, quindi angolo sessagesimale che va da 0 a 360. Qui potremmo farlo crescere anche, io ho usato un int, magari si può prendere anche un fluo, in modo da farlo crescere in modo un pochino più lineare, più fluido. Io lo farò andare avanti a scatti di un grado. Come facciamo a ricavarci questo R? Partiamo dal A, che è più facile. Quindi il nostro angolo A, ad ogni giro di loop, lo incrementiamo. Quindi sarà 0, 1, 2, 3, eccetera. Quando abbiamo a che fare con angoli, dobbiamo azzerarlo una volta che abbiamo fatto il giro. Allora, se A è maggiore o uguale di 360, rimetto A uguale a 0. In questo modo lo facciamo girare tra 0 e 360. Ora dobbiamo poi riconvertirlo, trasformarlo in radianti. Quindi R sarà uguale a... Come faccio a ricavarlo? Si fa la proporzione. Quindi diciamo, l'angolo in radianti sta a 2 pi greco. 2 pi greco sarebbe il 360, espresso in radianti. Come? L'angolo sessagesimale sta a 360. Io voglio ricavare l'angolo in radianti perché questo ce l'ho, è quello che va da 0 a 360. Allora, alfa R è uguale. Moltiplico la parte interna. 2 pi greco per alfa 0 diviso 360. Semplifico il 2 col 360, diventa 180. E quindi posso ricavarmi l'angolo in radianti, moltiplicando il nostro alfa 0 per pi greco fratto 180. Andiamo a trasformarla in codice. Il nostro R sarà quindi pari a... Iniziando dalla parte sopra, l'angolo moltiplicato per P. Allora, l'angolo è A, che però è un intero, quindi lo forzo a diventare float. E questo lo moltiplico per P. P è una costante già definita, quindi vedete che esce in blu, le moltiplico insieme. Poi questo qui, questo valore, lo dividiamo per 180.0, gli metto F, così sono sicuro che viene trasformato in float. Questo è il nostro angolo. Posso darlo in pasto al seno, sin R, quindi prendo un angolo che va da 0 a 2 pi greco. Questo mi produrrà un numero che oscilla tra 1 e meno 1. Lo metto in una variabile float che chiamo n. Allora, va da 1 a meno 1. Io devo spostare questo numero. Allora, il nostro seno mi produce un numero che va tra 1 e meno 1. Quindi sarà una cosa che fa così. Io devo trasformarlo in un numero che va da 0 a 1.023, che è qua. Allora, questa cosa qua la posso moltiplicare per metà di questa ampiezza qui. Quindi l'ampiezza di 1.023 a metà è 511 circa. 511 e mezzo facciamo. Quindi questo qui, il seno moltiplicato per 511, mi crea qualcosa che sarà a cavallo dello 0, ma ampio 1.023. Se gli sommo 511 lo sollevo. E quindi abbiamo una sinusoide che varia tra 0 e 1.023, quindi tra 0 e 3.3 volte. Andiamo a tradurre in codice questa operazione. Quindi il nostro valore che applicheremo, poi all'analog write, questo val, sarà pari a 511.5 per n. n è il valore che va da 1 a meno 1. e questo qui lo vado a sommare a 511.5. Questo numero lo devo trasformare in intero, in modo che sia un intero che va da 0 a 1.023 e lo passiamo finalmente ad analog write che genererà il segnale analogico. Compiliamo il tutto, lo carichiamo su Arduino e andiamo a verificare il funzionamento. Qui vedete la nostra sinusoide generata. Stiamo andando a 2,2 kHz. Con questo video si conclude la panoramica delle funzionalità base della nostra scheda XIAO. La userò magari in qualche prossimo video per fare dei mini prototipi, in modo da fare cose un pochino più intelligenti. Come vi dicevo, la necessità era di fare un mini set di video con le funzioni base per chi è interessato solo a quell'informazione. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!